Il Teramo domani a Gubbio in uno scontro salvezza fondamentale per il cammino dei Biancorossi, squadra dei Paladini che invece affronterà una formazione reduce da un momento difficile, ma è chiaro che in caso di vittoria Speranza e compagni compierebbero un passo probabilmente decisivo in ottica salvezza per la permanenza nella categoria senza passare dai play-out. Ma ascoltiamo Paladini. Sicuramente cercheremo di fare la partita perfetta, non sarà una partita facile perché incontriamo una squadra che ha bisogno di punti e quindi dovremmo stare molto attenti. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, nelle ultime 5-6 partite, cercando di continuare su questo trend qui, quindi l'obiettivo è quello lì. Sicuramente vincere sarebbe importante, però non sarà semplice. L'obiettivo è quello di cercare di fare un'ottima partita, cercando di non concedere nulla agli avversari e se è possibile di vincerla con l'equilibrio giusto. Dal fronte formazione si va verso la conferma dell'undice che ha vinto domenica scorsa qui al Bonolis contro la Triestina. C'è da sostituire Sales in casa Teramo. Varas e Pietrantonio sono in lizza per una maglia. In attacco invece dovrebbero essere confermati Bacio Terracino, Gondò e San Domenico. Posti blindati anche in difesa e lo stesso dovrebbe essere anche a centrocampo. Non ci sarà neanche Tulli squalificato per due giornate. Dall'altra parte assenza importante nel Gubbio perché mancherà il bomber Marchi, autore finora di 13 reti. Squalificato anche di Erna il difensore centrale, ma ovviamente la squadra di Sandriani cerca anch'essa punti fondamentali per la salvezza. Sicuramente Marchi è un giocatore che ha fatto 13 golle, quindi è un giocatore importante per la categoria. Non solo per il Gubbio ma anche per la categoria. Però anche per noi Sales era un giocatore che stava facendo veramente bene. Però abbiamo altri giocatori, ma uno dei due sarà il sostituto di Sales. Ma noi dobbiamo continuare su questa strada e quindi cercare di avere questo entusiasmo, questa voglia di fare risultati a tutti i costi e poi vedremo quello che accadrà. Sicuramente loro sanno di avere una partita importante, non perché giocano contro il Teramo, ma perché è una partita per loro che potrebbe essere quella del rilancio. Mi aspetto una partita difficile, una partita contro una squadra che ha bisogno di punti, come dal Tonde ne abbiamo bisogno noi, e quindi sarà una partita difficile. Ripeto, tutte le partite vanno giocate e questa forse in questo momento è la gara più difficile che abbiamo. Grazie Grazie a tutti